Ciao a tutti, oggi è qui per parlarvi di un disco un po' particolare, un po' particolare perché non parlo moltissimo di musica italiana e di un artista particolare perché è Ligabue, Ligabue che diciamo che divide abbastanza, ci sono i fan accaniti e ci sono i detrattori accaniti ora io non sto né da una parte né dall'altra però dico che i detrattori accaniti si accaniscono perché è famoso per fare sempre quei tre accordi lì il che può essere anche vero però ci sono tantissimi artisti che godono di grande fama, non lo so, mi vengono in mente gli Easy Deasy, gli Iron Maiden che fanno sempre quei tre accordi lì ma vengono osannati quindi non capisco francamente queste critiche a maggior ragione perché non che in Italia ci siano tutti questi grandi fenomeni quindi avercene di gente come Ligabue dopo tutta questa manfrina, questo è Sopravvissuti e Sopravviventi, un disco molto particolare, il terzo disco di Ligabue, anno 91-92 come al solito arrivo sempre impreparato, 93, questa volta ho sbagliato, 1993, un disco particolare perché lo stesso Ligabue lo definisce il tonfo più grande della sua carriera è il disco che lo stava rovinando perché i primi due hanno avuto un ottimo successo e questo qui no perde le sonorità molto heavy, molto hard rock e che infatti a me è un disco che piace molto, piace particolarmente andiamo a vedere la confezione, bella la copertina con questa sorta di circo e bella anche la serigrafia del CD curiosità, la band che suona con Liga sono i Clandestino che è una band che è simile per suonare con lui e per questo il sound è un po' diverso altra curiosità è Demo Morselli, forse i meno giovani si ricordano vai Demo, questa era una discutibilissima imitazione di Maurizio Costanzo, a Maurizio Costanzo Show c'era questo Demo Morselli che dirigeva l'orchestra grandissimo, solo di tromba in ho messo via questo disco mi piace, è sempre piaciuto da ragazzino, lo ascoltavo e francamente non percepivo questo tonfo che Ligabue avesse in quel periodo anzi pensavo fosse un disco di successo perché ascoltavo i singoli, mi sembra che era I duri hanno due cuori che lo ascoltavo spesso in giro diciamo che l'unica vera hit, cioè la canzone che Ligabue si porta dietro dal vivo, adesso non so perché ho smesso di seguirlo ultimamente e ho messo via, grandissima canzone, forse la sua più bella ballad in assoluto, se posso dire la mia l'album secondo me è veramente ineccepibile, c'ha belle sonorità, c'è una canzone che era dove fermano i treni, c'è il riff che mi ricorda molto quello di Ratchide di Iron Maiden una canzone dura e che lo stesso Ligabue odia perché suona quasi heavy metal, il che è vero infatti per questo mi ricorda Ratchide di Iron Maiden c'hanno un sacco di belle ballad, c'è la ballerina del carry on, c'è Walter il mago, bellissima quando tocca a te, bellissima, altra bellissima ballad, è un opener che mi piace tanto, ancora in piedi un opener che dà veramente il ritmo giusto, se la conoscete sapete di cosa sto parlando una bella, bellissima introduzione al disco vi ho fatto vedere il libretto? No, non ve l'ho fatto vedere aspettate un attimo poco leggibile, tutti i testi c'è anche del rosso qui che non so per quale motivo c'è il rosso e il rosso sono i personaggi perché questo è una specie di concept con dei personaggi nonostante questo sia il tonfo di Ligabue, a me piace molto, metto un bel 73 centesimi, mi piacciono i suoni secondo me tutte le canzoni fanno il loro Top Tracks ancora in piedi, bellissima opener i duri hanno due cuori che ricorda molto Bamboline e Barracuda del primo album con quel parlato cantato ho messo via, che l'ho già citata tante volte Skip Tracks non ce ne sono, un disco scorre con le sue 13 tracce, che è un piacere quindi un ascolto consigliato, se volete ascoltare un Ligabue più duro, più pesante sempre nei limiti ovviamente, quindi vi consiglio l'ascolto di questo sopravvissuti e sopravviventi questo è tutto, ditemi cosa ne pensate se lo ascolterete, se lo avete già ascoltato se non lo ascolterete per adesso è tutto, ciao a tutti, alla prossima